Carlentini, viola, divieto di avvicinamento e minaccia con il coltello alla ex convivente, arrestato, stalker recidivo. Non è bastato il divieto di avvicinamento alla ex convivente, disposto dall'autorità giudiziere nei suoi confronti, in preda all'alcol e non curando del provvedimento del suo carico, un pregiudicato 48enne del luogo, si è presentato sotto casa della ex minacciandola di morte con un coltello. La donna terrorizzata ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza 112, immediatamente sono giunti i carabinieri della locale stazione che hanno sorpreso l'uomo ancora sotto l'abitazione in possesso di un coltello di genere vietato. Per lo stalker risultato recidivo, in quanto protagonista di analogo a condotta un anno fa, si sono aperte le porte del carcere di Cavadonna, dove è stato posto a disposizione della procura della Repubblica di Siracusa.